Ehi, vanno con te, ci sono GSJ, vanno 4 GME, è arrivato il momento di godare la sfida, fai provare al vincitore una gioia, allora dai, su, chiama se vuoi, con il numero 6, vai felice anche noi, decidi tu, chi diventerà noto, tu scrivi 1, 2, io con te le noto.